Nelle Marche esistono più di 40 birrifici, fra agricoli ed artigianali, in quella che la quinta regione in Italia per produzione di orzo destinata ad oltre 300 tipi di birre. La regione si è anche dotata di una legge apposita di promozione e valorizzazione della birra avvalendosi dell'Associazione Nazionale Città della Birra. Quest'ultima, nata nel 2015, è presieduta dal sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci ed è parte integrante del nuovo progetto Strade della Birra presentato dalla regione Marche, unendo in un unico percorso luoghi simbolo di questa produzione d'eccellenza che oltre ad Apecchio annovera in provincia di Pesaro Urbino anche Sasso Corvaro, Monte Cerignone, la stessa Pesaro, Efano, Fermignano, Coglie al Metauro, Monte Porzio, Cantiano, Serra Sant'Abbondio e San Lorenzo in campo. Oggi abbiamo presentato il progetto Strade della Birra della regione Marche che avevamo già in qualche modo realizzato in una prima fase primordiana del 2018 e grazie a un contributo della regione Marche. Oggi presentiamo la seconda versione, quella definitiva, del progetto Strade della Birra della regione Marche che è un contenitore che vuole valorizzare partendo appunto il territorio dai birrifici artigianali per poi creare una filiera mettendo insieme anche le imprese, quindi non solo birrifici ma anche strutture ricettive, ristoranti, agriturismi e anche tutta la parte culturale per poter permettere ai turisti che vengono delle Marche di poter avere un ampio raggio e un ampio spettro di opportunità da vivere nei 21 comuni che fanno parte della rete perché la rete è composta appunto da 21 comuni e si configura come una delle reti più grandi e più importanti di comuni delle Marche. La regione Marche attraverso una legge specifica nel 2020 ha voluto creare le condizioni normative proprio per la valorizzazione della birra di produzione agricola e artigianale qui nelle Marche. è una realtà presente con oltre 40 aziende e allora far conoscere anche i luoghi dove nascono e crescono queste aziende, farli anche avvicinare ai luoghi proprio di produzione laddove esistono appunto proprio birrifici agricoli, ecco rappresenta un modo importante per far conoscere il territorio. Il passaporto della birra artigianale della regione Marche è un'idea che è naturalmente molto originale che naturalmente ci è venuta per permettere ai turisti di avere comunque un vantaggio in termini economici per coloro che decideranno di visitare la rete dei 21 comuni quindi il turista tramite il nuovo sito che vedete alle mie spalle che è www.stradellabirra.it si potranno iscrivere al sito, potranno scaricare il passaporto che è possibile utilizzare sia una versione cartacea che una versione digitale e potranno avere dei vantaggi nelle strutture che sono convenzionate e che sono presenti all'interno del sito, basta presentare il passaporto che contiene un QR code, l'esercente scansione QR code e si attiva automaticamente lo sconto.